Buongiorno, da dove sei? Belgi. Vacation in Bari? Quante volte stai in Bari? La prima volta. La prima volta? Il tuo commento in questa situazione? È buono. Tutti piccoli, certo? Abbiamo solo entrato il bambino. Grazie, benvenuti in Bari. E scusateci, scusateci. Scusateci per questa situazione. Non c'è niente. Non c'è niente. Desolazione. Desolazione. Alcuni frutti, alcuni prodotti. Ma in generale, questa è la situazione. Perché? Perché? Perché le politiche in questa città si dormono. Sì. Sì. Non funzionano. Non funzionano. Non funzionano. Sì. Scusateci per il mio inglese. Ma ci siamo capiti. Hai capito? Sì. Sì, capito. L'amica del Belgio ha capito comunque. Welcome to Bari. Welcome to Bari. Good holiday. Good holiday. Good holiday. Che vergogna. Mamma santa. Ma a parte, ci siamo capiti. Avete capito tu. Cioè, questi vengono dal Belgio a fare questa passeggiata qui dentro. Ma mi rendete, scusate il mio sorriso amaro, ma loro stanno qui tra un box aperto e dieci chiusi. Ma perché? 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 Caratteristico. Tipico. Il mercato tipico. I turisti del Belgio vengono a farsi la passeggiata in questa fogna. E' straordinario, Tino. Andiamocene anche noi. Perché la bobina sta cominciando a girare all'incontrario. Ha mai girato dritto? Eh? Ha mai girato dritto? In queste situazioni mai. E del resto abbiamo testimonianze di quindici chili meno, qualche capello senza barba qui dentro. Ormai era già così. Era già così. Signora, attenta, eh. Il pavimento è un po' così, eh. Il pavimento è un po' così. Adesso è un pavimento, giustamente. Hai ragione. Hai ragione. Hai ragione. Continuiamo in questa denuncia di questa struttura inqualificabile. Oggi c'è... Oggi c'è... Cos'è questo? Ma è... Sembra di sì. È vero? È... È quella. È quella, vero? È quello che penso io. Sì. In un mercato. Vabbè. Questo è quello che volevamo dirvi. Qualcosa ve l'abbiamo detta, ve l'abbiamo fatta capire in alcuni casi. Tante altre cose ve le diremo e faremo capire in seguito. Per ora e solo per ora dal mercato dell'ex manifattura tabacchi di Bari è quasi tutto. Restate sintonizzati perché cambierà tutto. Però non cambiare niente. Però non cambiare niente. 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 Grazie a tutti